10 5 4 3 2 1 vai tornante destro occhio interno 20 sinistra 3 corta 50 sinistra 5 2 tempi in tornante sinistro e stai tranquillo che sei appena partito c'hai ancora le gomme un po' fredde 70 sconnessi alla zebra destra 3 corta per destra 3 più 100 destra 5 lunga tieni in sinistra 6 in destra 5 per sinistra 5 apre 150 accenno sinistro 100 destra 6 e 200 dossati a rail dove c'è la chiesa occhio sta un po' largo destra 1 sale per sinistra 3 corta su dosso no interno in destra 2 20 sinistra 2 occhio interno 100 albiri attenzione sinistra 3 diventa 5 occhio interno per per destra 4 corta attento 4 corta 150 sconnessi alla chiesa attenzione sinistra 4 meno occhio interno per attenzione destra 2 occhio interno è sporco 20 destra 4 per sinistra 4 occhio interno 50 al palo destra 2 intornante sinistro 20 sinistra 3 occhio interno intornante destro lungo 20 sinistra 5 50 destra 5 occhio interno per sinistra 5 per destra 5 occhio che inizia lo sconnesso in sinistra 5 50 accendo sinistro 200 al cartello destra 3 e attenzione tornante sinistro sporco sporco 20 destra 4 50 al rovescio accendo destro 200 e attenzione sinistra 5 occhio interno per destra 5 in sinistra 4 per destra 3 corta e molta attenzione tornante destro 50 sinistra 4 lunga per accendo destro forse sporco in sinistra 5 per destra 5 meno occhio interno e sinistra 4 4 questa 150 inizia lo sconnesso sinistra 6 meno là in fondo e attenzione destra 3 intornante sinistro per destra 3 più 3 più sinistra 5 per destra 4 lunga lunga diventa 5 tieni giù tutto molla basta fermo è finita la prova